Hello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Quante belle cosette che stanno postando Finalmente un lancio di season come si deve Due giorni su due con una cinematica diversa Se non avete seguito per nulla la vicenda vi chiederete Ma dove viene fuori questo POI? Ci arriveremo tra qualche secondino Come sempre un bel pollicione all'insù Condivisione con tutti i vostri amici E Codigo Martex è la tienda The Fortnite Per sostenere tutti, tutti, tutti questi video mattutini Un grazie infinito a tutti quanti voi belli miei Siamo partiti proprio ieri con questo teaser che dura davvero pochissimo Ma abbiamo capito almeno quale sarà il tema della prossima stagione In arrivo questo 9 giugno Il titolo è Giungla Dura meno di 10 secondi per chi se lo fosse perso Eccovelo qui E ci siamo Unendo i vari teaser di diverse lingue L'immagine finale andava a formare questo punto di interesse Quel famoso luogo visto per la primissima volta tramite la schermata di caricamento Liccata Lo si capisce da queste entrate a forma di rombo Tramite la mega schermata di caricamento Avevamo capito sin da subito che ci sarebbero state ben 4 skin nuove Come sempre ragazzi miei abbiamo delle skin all'interno del pass battaglia Che ci accompagneranno per tutta la stagione Optimus Prime qui sulla sinistra Miascolo selvaggio qua su Lo chiameremo per il momento in questa maniera Lorenzo al centro e sulla destra Rian Ma Martex come fai a conoscere i nomi di queste skin? Ci arriviamo, ci arriviamo belli miei Mamma mia quanto hype Ieri pomeriggio, ore 16 Epic Games su Twitter Droppa questo bellissimo teaser Secondo teaser animato in due giorni Ragazzi miei, sto sognando? No, è tutto reale Andiamo, 3, 2, 1 Avete capito da dove proveniva l'immagine iniziale? Partiamo col dire che pesce secco In questo caso il signor Balestra e Bananita Sono sempre le mascotte di ogni singolo trailer Non mancano mai Quindi skin nuove che vedremo tra qualche giorno All'interno del pass ne abbiamo ben 3 I ragazzotti si accorgono che purtroppo È accaduto qualcosa di strano alla mappa E no ragazzi miei Purtroppo Mega City è ancora lì Vi sottolineo una cosa Mini parentesi Tutto ciò che vedete tramite queste immagini Non corrisponde perfettamente alle varie sezioni dei POI sulla mappa Dalla nostra prospettiva Vedendo il nuovissimo luogo in questione Potrei dedurre che Mega City Essendo che si trovi lì in alto a sinistra Questa nuova giungla Prenda il posto di Piazza Incudine Barra Cittadella E almeno è piazzata lì in alto a sinistra Non ne son sicuro perché come vi ho già detto I terremoti partivano dal punto zero Quindi quasi centro mappa E si andavano ad estendere fino a Piazza Incudine Ripperotti per il mio landing preferito Le cose comunque sia sono semplicemente due Come già detto O tutto ciò e quindi questo nuovissimo luogo Comparirà tra la Cittadella e Piazza Incudine Ovvero alle nostre spalle Oppure belli miei Guardate qui Ci troviamo all'interno di una sorta di fossato L'ambiente è quello E' come se ci fosse uno scavo Quaggiù predisposto ad accogliere Di già Questo nuovo luogo E quindi l'ambiente Il bioma Giungla Tra l'altro scendendo per di qua Guardate quanto si è bassi Continuiamo ad andare avanti Ci dirigiamo Verso il punto zero Ditemi un po' Quanto questa piattaforma Posta al centro di questa zona Somigli Allo stile Di quel monumento Che è comparso Assieme alla giungla Sia il cerchio Quaggiù Ma anche i tre monoliti Posti Ad ogni lato Ragazzi miei Vanno a richiamare Quei disegni Il punto zero E' proprio dietro A questi alberi Mega city E' laggiù A livello di prospettiva Non siamo proprio Come la cinematica Che ci hanno proposto ieri Ma comunque sia Come già detto Quest'ultima Non rispecchia La realtà Della mappa Che viviamo Giorno per giorno Credo proprio Che avremo In questa esatta zona Il nuovo bioma Il punto zero Risiede proprio qui Quindi il tutto Potrebbe essere Qui Oppure tra piazza Incudine E cittadella Ma credo proprio Ragazzi miei Che ci siamo Io punto Proprio Per questo luogo La primissima cosa Che mi son detto ieri Subito dopo aver visto Questa nuova cinematica Ok Finisce qui Non ci daranno Altri teaser Per oggi Perché hanno appena Sganciato Questa bombetta Ed è fantastica Beh ragazzi miei Non è stato così Perché hanno Troppato Altri Quattro teaser Però attenzione Non delle cinematiche Tra l'altro Questa che vediamo Potrebbe far parte Del nuovissimo trailer Che verrà presentato Per la primissima volta Tra qualche giorno Infatti Il trailer Ufficiale Della stagione 3 Giungla Di fortnite Verrà presentato Al summer game fest L'8 giugno Ragazzi Comincerà intorno Alle 9 di sera Molto probabilmente Streamerò questa cosa E il giorno dopo Ci sarà la nuova stagione Ma adesso Siete pronti A vedere Quali saranno Le primissime skin Di questa stagione Ho il piacere Di presentarvi Era Look orientale Con un mega ciondolo Sul fianco destro Che ricorda Tantissimo Anzi Non ricorda È proprio Il punto zero Guardate la mega orb Laggiù E il nexus E quanto è bello Non finisce qui Perché Epic Games Ieri pomeriggio Ci ha deliziato Con altre tre Immagini Oltre a lei Andiamo Avanti Guardate qui Trace Lui porta con sé Questa sacca Ancora bisogna Capire A che cosa Servirà Però Posso già Intravedere Un effetto Della skin Potrebbe essere Reattiva O una seconda Variante Lo noto Dal piccone E dal colore Delle sue mani Anche perché Tutte quelle venature Come potete ben vedere Ragazzi miei Si tingono Di blu Poi ovviamente Voi qua sotto Tra i commenti Fatemi sapere Qual è la vostra skin Preferita Andiamo avanti Rian O Ryan Eccovela qui Skin vista Sul veloci raptor Per la primissima volta E lei O non è lei Dovrebbe essere lei Con una seconda Variante Quello che vedete Deve essere al 100% Lo stile Giungla E mi piace Passiamo All'ultima skin Ed eccovi Lorenzo Personaggio Che fin dal primo momento Abbiamo definito come Uomo Mappa Ha una mappa tatuata qui sul petto Le coordinate Su tutte e due le braccia Tra l'altro Le stesse venature Che abbiamo Sulla seconda skin Sono riportate anche Su questo piccone Quindi diamo Un caloroso Benvenuto Ad era Trace Rian E Lorenzo O come diranno Tutti quanti Lorenzo Non finisce qui Però ovviamente Perché ieri sera Alle 22 Spaccate Epic Games Su Twitter Posta Tale domanda Qualcuno vuole Indominare Quale sarà L'outfit Del livello 100 Nella prossima stagione Solo io penso Che dietro a tutto ciò Possa esserci Semplicemente Una domanda A trabocchetto Anche perché Visto da Epic Games Io direi Ok Vi abbiamo esposto Queste 4 skin Tramite le immagini Che avete appena visto La skin del livello 100 Potrebbe celarsi Dietro una di queste immagini Oppure ancora Dobbiamo svelarvela Quindi Sinceramente Non saprei Dopo questa domandina Da parte loro Mi sorgono ancora più Punti interrogativi Riguardo Ad una possibile skin Del livello 100 Secondo voi Quale sarà A few moments later Dopo neppure 40 minuti Risponde Nella sezione Commenti A tale domanda L'account ufficiale Di Transformers Con degli occhietti Tipo Oh Chissà Non è una conferma Al 100% Ma le cose Si potrebbero collegare Anche perché Lo fanno sempre Ragazzi Fanno spesso E volentieri Tutto ciò che state vedendo Quest'oggi Giochicchiano con questi tweet Botta E risposta E quindi Si Optimus Prime Come skin Livello 100 Come la vedreste Avevamo dubbi Riguardo Adesso Sin dall'inizio Su una possibile skin segreta Stagionale Ed invece no A quanto pare Lui sarà la skin Del livello 100 Ultimo livello Del pass battaglia Stagione 3 Giungla Di Fortnite Fatemi sapere qua sotto Tra i commenti Cosa ne pensate E se tutto ciò Ovviamente per voi È possibile Vi ripeto Non è sicuro Al 100% Anche perché Non possiamo Basarci solamente Su un tweet Ma comunque sia Ragazzi miei Account ufficiali Di qua e di là Quindi Dobbiamo solamente Attendere Io spero con tutto il cuore Che il video di oggi Sia stato di vostro gradimento Ci becchiamo Alle 14 Con lo shorts Giornaliero Oppure In live Mi raccomando Non mancate Perché per quest'oggi È previsto Un terzo E ipoteticamente Ultimo Teaser Quindi A più tardi Oppure in un prossimo video Sempre qui Ogni singolo giorno Alle 7 Del mattino Vi lascio con la clip Dello shop giornaliero Codigo Martex È la tienda De Fortnite A più tardi Ragazzi miei Sia Brails La Dharma A nit Hunger po Ni A lo Di 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 Grazie a tutti.